Bene amici, questo video inizierà dalla fine, ovvero dalle conclusioni Serie Note, Note 9, Note 10+, Note 10 normale, poi ho qua anche un S10 normale, non plus Proprio per parlarvi di ergonomia, perché il fatto che quest'anno i Note si siano sdoppiati in due E beh, un po' le carte in tavola cambiano, perché diciamoci, la serie Note o la si ama o la si odia E in molti mi hanno chiesto passare dal Note 9 al Note 10 ha senso? Vi rispondo subito e vi dico sì, di solito non sono così transient, magari a volte, soprattutto sulle serie S Vi dico sì, magari aspettate due generazioni, da S8 passata da S10, da S7 e S9, magari da S9 e S10 non ha tanto senso Quest'anno invece vi dico proprio sì, perché secondo me Samsung è andata a implementare le serie delle funzioni Ma non è quello il motivo per le quali cambiare da S9 e S10 Secondo me il motivo è sostanzialmente l'efficienza energetica Perché si è passati da un processore abbastanza energivoro e lo si capisce da quando si usa il telefono Note 9 un pochino scaldicchiava, l'ho sempre detto anche nella recensione del Note 9 pur amandolo A un Note 10 che è molto più efficiente, scalda molto bene con una batteria che dura di più Quindi sì, il passaggio, ma quest'anno appunto la nuova variabile è la dimensione Perché questo Note 10 non plus mi è piaciuto veramente tantissimo Si tiene bene in mano, si maneggia meglio Tra parentesi, una cosa che mi sono dimenticato di dirvi Un altro motivo per passare da Note 9 a Note 10 è lo sblocco Perché qua abbiamo lo sblocco con l'impronta dietro, scomodino Con la lettura dell'iride lentissimo Qua invece abbiamo il volto e se volete che è veloce Ma non è tridimensionale, più sicurezza Il pollicione posto davanti, comunque l'insessore di impronta posto davanti Che è molto più efficiente Ma tornando a questa nuova variabile di dimensioni A me Note 10 è piaciuto un sacco Sì, quello normale è vero, va a perdere qualcosina In questa recensione vedremo, più che recensione confronto, che cosa perde Ma quello che guadagna, cioè la portabilità, è secondo me impagabile Questo riesco a metterlo nella tasca dei jeans davanti e sedermici Questo no, vabbè, andiamo al confronto Il primo capitolo è quello dei materiali estetiche La touch and feel ed ergonomia E allora Note 9 e Note 10 sono lì Anche se Note 10 ha diminuito un pochino la curvatura del display Quindi forse un filino più comodo da tenere in mano Ma invece prima gli sblocchi molto meglio E cosa cambia? Non cambia per niente il design ma la dimensione Ve ne ho appena parlato E ho qua l'S10 Per far vedere come sia praticamente Solo leggermente più grande di S10 È un pochino più squadrato per quanto riguarda le forme Ma la serie Note è sempre stata un pochino più squadrata della serie S Ve li faccio vedere anche in pianta Ed ergonomicamente questi due telefoni sono praticamente molto simili da utilizzare No, 10 veramente comodo, comodo, comodo ed ergonomico Una cosa sulla quale molti hanno storto il naso La dimensione del display ma soprattutto la risoluzione del display E allora andiamo a vedere se questo Full HD rispetto al QHD è tanto diverso Allora metto la luminosità al massimo su entrambi i telefoni Sapete ho già fatto la prova e vi ho detto che comunque sotto la luce del sole Questi due telefoni anche con la luminosità messa in manuale Sparano comunque una luminosità altissima Si vedono molto bene sotto qualsiasi tipo di illuminazione Vi sto facendo girare i classici frame, le classiche foto che faccio girare sempre per valutare la differenza sui display Ma ragazzi a occhio proprio non c'è differenza Qualcuno mi ha anche chiesto di andare a vedere un video su YouTube E allora vi faccio vedere questo 4K HDR Che metto da entrambe le parti alla risoluzione massima Ovviamente 1080 da una parte e 1440 dall'altra Ve lo metto in orizzontale Aspettate che lo metto qua a tutto schermo Faccio così E facciamo che abbasso anche l'audio da questa parte Guardate a occhio nudo Io non rilevo nessun tipo di differenza Veramente un display molto molto bello Sia da una parte sia dall'altra Quindi questa è una delle più grandi pippe da scheda tecnica che si possa fare Il fatto che il display è migliore su un Note 10 Plus In teoria sì, in pratica alla vista no Qua abbiamo 498 ppi Qua ne abbiamo 401 Per quanto riguarda la batteria E qua mi ha stupito E qua dopo aver fatto il test live batteria Poi averlo usato un paio di giorni Comunque in maniera intensa Come mio primo ed unico telefono Mi ha stupito, lo dico subito E mi ha fatto innamorare proprio il discorso batteria E ora un po' timoroso Siamo a 3500 mAh contro 4300 mAh Ma vi faccio vedere dagli screenshot Comunque andate sul blog Perché c'è proprio il live batteria Come questi due telefoni si siano comportati in maniera molto molto simile Questo è quello che ho fatto Questo è l'andamento della batteria 5 ore, quasi 6 ore di schermo con entrambi 553 con uno, 550 con l'altro Li ho usati parallelamente nella mia classica giornata stress Sono arrivato con il 17% di batteria residua sul Note 10 Plus E il 10% di batteria residua sul Note 10 La differenza è veramente molto molto piccola Entrambi non scaldo Entrambi hanno la batteria adattiva Che tra l'altro si è già un po' adattata sul Note 7 Plus Perché lo sto usando da più tempo rispetto al Note 7 Quindi Note 7 è normale che può ancora migliorare Diciamo che 20% come vi ho detto nella recensione A sera con uso stress Qua siamo intorno al 10-15% L'altra grande differenza Grande, tra virgolette È la velocità di ricarica A parte che botte da 45 W Non fanno benissimo la batteria Comunque lui si ricarica a 45 W Quindi più velocemente Rispetto ai 25 È anche vero che la batteria è più grande Quindi comunque questa velocità viene un po' filtrata Ma è anche vero che in confezione C'è solamente un caricabatterie da 25 W Su entrambi i modelli Quindi per la carica a 45 Dovrete comparare un caricabatterie opzionale Carica entrambi wireless Questa è un pochino più veloce Mi sembra 25 contro 15 W Entrambi carica wireless inversa Anche qua delle differenze direi Marginali nell'utilizzo quotidiano Per quanto riguarda hardware e prestazioni pure Qua abbiamo 8 GB di RAM Qua 12 E ecco sì C'è una differenza abbastanza sostanziale Il fatto che il Plus non abbia l'espansione di memoria Cioè il normale Scusate non abbia l'espansione di memoria Il Plus sì Una precisazione per quanto riguarda la durata della batteria Mettendo una seconda SIM Entrambi sono dual SIM Si perde la possibilità su un Note Plus Si mette l'espansione SD Consumano di più Samsung non ha ancora ottimizzato bene La gestione del dual SIM Un 10-15% in più di consumo c'è Ma le prestazioni sono assolutamente uguali Ve lo faccio vedere facendovi un giro su Instagram Facendo un giro su Twitter Facendo un giro sul gestore delle pagine Gestore delle pagine che magari adesso è più lento da questa parte Ma perché se mi loggo da un altro telefono Poi si sloga sul principale Insomma fidatevi Vanno assolutamente uguali Anche il feed della vibrazione è assolutamente uguale La fotocamera Anche lì mi ripeto È assolutamente uguale Ve lo faccio vedere In qualche scatto fatto proprio ieri Durante la batteria Dove ho fatto degli scatti paralleli Ho fatto 4-5 scatti Non ho trovato delle differenze Entrambi hanno la grande angolare Cosa cambia sulla parte posteriore? Che il 10 Plus ha in più il TOF Ovvero il sensore tridimensionale Questo gli dà una marcia in più Per quanto riguarda l'effetto bokeh Ma non è tanto lì che si usa il TOF Quanto più nella scansione di oggetti tridimensionali Non è ancora arrivata l'app Ma poi ci sarà Per poi la possibilità di magari ristamparli in tridimensionale E la possibilità di andare a prendere delle misure C'è l'applicazione misurazione qua sullo store Cosa che non funziona con il normale Dove l'applicazione misurazione non la trovo Vabbè pazienza comunque fidati Ecco qua misurazione rapida Una differenza che sinceramente non è anche qua sostanziale Dex uguale Funzioni pen assolutamente uguale Always on display che funziona molto bene su tutti i due telefoni Ovviamente la possibilità di prendere le note al volo nella stessa maniera Riproduzione audio Ecco qua il fatto che il telefono sia più piccolo Ci poteva far pensare a una leggera differenza di prestazioni Ma adesso vi farò ascoltare come questa differenza non ci sia Dove è finito l'album delle cuffie che ascolto sempre Eccolo qua Canzonetta marra Parte alzo il volume Ovviamente audio stereo Nel frattempo alzo anche di qua Avevo alzato la suoneria Potrei stare a mixare ma anche qua non c'è nessuna differenza Entrambi hanno l'audio stereo Entrambi hanno un buono audio in capsula auricolare Anche se la fessurina dove esce l'audio è veramente minuscola Poi io alla fine non sono neanche riuscito a trovarla Però non è come l'audio telefonico di A80 È molto meglio Andiamo alle conclusioni che vi ho già dato un po' all'inizio Io amo questo 10 No 10 Terrò questo Il plus magari lo tengo in cantinetta Per confronti cose varie Ma sicuramente uso quotidiano No io uso i telefoni che provo Ma quando magari si mette una pausa Tra un telefono e l'altro Magari non escono tanti Il note sarà il mio ufficiale Fino a che magari non esce uno che mi convince di più Sapete che senso ha secondo me il note 10 plus Nella versione 5G Perché non ci sarà il piccolino 5G Solamente il grande Allora lì avrà una marcia in più Per quanto riguarda la velocità dei dati Perché bisogna magari di fare tithering Di usarlo come modem Allora lì sì che avrà senso Ma nella versione normale 4G Risparmiate un po' di spazio Andate a avvantaggiare l'ergonomia Perché da un punto di vista funzionale Uguali A parte le diversità che vi ho detto Ma da un punto di vista comodità Note 10 tutta la vita E costa anche meno Su Amazon si trova già a 900 euro Contro i 1050 circa del Note 10 plus Insomma spero di avervi aiutato in questo confronto Io vi saluto Ciao Ciao